in diretta e siamo a scienza e medicina. Anche questa sera parleremo della salute della nostra bocca, il nostro sorriso, la bellezza del nostro sorriso e l'estetica come sempre con un esperto. Do il benvenuto, siamo stati senza di te per una settimana ma in spazio per essere qui con noi. Ricordo a chi ci sta ascoltando che il professor Tiziano Testori è presidente dell'Accademia. I linee telefoniche sono già a vostra disposizione, potete... Tiziano, abbiamo davvero a lungo parlato di implantologia, la diagnosi sia una ma poi le soluzioni siano diverse. Questo è tutto quando si verifica questa situazione e quali sono le possibilità di intervento. Allora prima di tutto se abbiamo ormai letteratura scientifica ed esperienza clinica ormai decennale al paziente, quindi detto questo però le ricostruzioni osse fanno una tecnica sperimentale. Vediamo se la regia ci aiuta con il supporto delle immagini. Vediamo se la regia ci aiuta con il processo che si chiama pneumatizzazione. Uno in linea, buonasera, con chi parla? Buonasera, sono intervenuta. Anche questo è una... di solito c'è dolore perché con le anestesie chirurgiche che abbiamo a nostra, il paziente è vigile, mantiene tutti i suoi riflessi, cioè se io ti sedo e ti dico, noi odontoiatri ci sono ormai dei master che si interessano a livello universitario. L'anestesia tradizionale in narcosi quando ti addormentano completamente dove non c'è assolutamente nessun dolore per il paziente che sente male. Quindi sedazione cosciente, anestesia non è doloroso durante l'intervento, che possono essere degli analgesici periferici, i normali analgesici che uno prende per il mal di testa possono beneficiare di una serie di differenti farmaci per controllare il dolore. Allora anche qua dipende moltissimo dal tipo di difetto osseo, un evento ricostruttivo più utilizzato. Miracolose che a volte vengono a ricostruirsi, non dico da solo, però magari più velocemente. Allora, cure miracolose per la ricostruzione e per alcuni RCCS, cioè ospedali a carattere scientifico di contaneamente, vengono utilizzate anche dagli oculisti per disepitalizzazione della corpo. Parleremo in maniera approfondita tra pochi minuti. Nuovo in studio, scienza e medicina, in nostra compagnia il professor Tiziano Testori, che vi ricordo è presidente dell'Accademia Italiana di Implant. Sono a vostra disposizione, potete intervenire in qualunque momento, basta comporre lo 0313300655. Tiziano, torno da te per aprire un focus a quali sono le indagini diagnostiche, radiografiche, immagino. Per piccole cose la panoramica può essere adeguata, ma quando tu cominci a vedere zone dentro... Allora, una zona di atrofia di questo tipo, tu l'hai 6-7 mesi dopo massimo il riassorbimento rispetto a una panoramica, anche se lo standard adesso in odontoiatria non è più la... Se noi mandiamo in sovraimpressione di grandissimo aiuto al paziente e possono ricostruire l'osso. Le ricostruzioni sono più complicate quando i difetti e l'osso deve crescere in verticalità e quindi bisogna fare una diagnosi di che osso di partenza c'è, la condizione dei tessuti, che sono più impegnativi sia dal punto di vista esecutivo... C'è...